Il ministro dell'interno Alfano a Palermo per un vertice in prefettura sull'emergenza incendi. Sicilia in fiamme, 500 incendi nel giovedì di fuoco, pesante il bilancio dei danni. Dopo il caldo record di ieri, temperatura in discesa nel fine settimana. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews oggi è venerdì 17 giugno. Questa mattina il ministro dell'interno Angelino Alfano è arrivato a Palermo per presiedere un vertice in prefettura sull'emergenza incendi. Le procure di Palermo e Termini Merese hanno deciso di acquisire le informative delle forze dell'ordine al fine di aprire un'inchiesta sull'origine dei roghi scoppiati ieri in Sicilia, molti dei quali si ritiene possano essere di origine dolosa. Stamattina in prefettura a Palermo dove attiva l'unità di crisi è arrivato il ministro dell'interno Angelino Alfano per presiedere un vertice sull'emergenza incendi. Il ministro insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e al capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha fatto il punto della situazione alla presenza anche dei rappresentanti delle istituzioni locali e i prefetti delle zone interessate. Tutte le strutture del ministero dell'interno sono mobilitate al lavoro 24 ore su 24, ha detto Alfano. La nostra priorità è quella di mettere in sicurezza la gente e le abitazioni, le prefetture siciliane, i vigili del fuoco sotto il coordinamento del Centro Operativo Nazionale del Viminale, la Protezione Civile e tutte le forze di polizia, ha aggiunto il ministro, sono impegnati per fronteggiare l'emergenza che sta divampando in Sicilia. Abbiamo messo in campo tutti gli uomini e i mezzi disponibili, sono in contatto con le prefetture e le centrali operative della regione siciliana per seguire l'evolversi della situazione. C'è il massimo sforzo di tutte le strutture del personale del Viminale e della Protezione Civile per cercare di alleviare per quanto possibile i cittadini dai disagi. Le squadre dei vigili del fuoco, potenziate con il richiamo in servizio di personale in turno libero, stanno effettuando centinaia di interventi, soprattutto per soccorso a persone automobilisti in difficoltà e per il ripristino della viabilità. Sicilia in fiamme, 500 incendi nel giovedì di fuoco, attivi ancora 32 focolai, pesante il bilancio dei danni. Un inferno di fuoco, quello che si è abbattuto sulla Sicilia ieri. Fiamme, incendi e roghi ovunque hanno distrutto ettari di terreno, messo in pericolo abitazioni, intossicato cittadini e creato disagi alle comunicazioni sotto ogni forma e quasi ovunque. Palermo oggi si risveglia malconcia, anche se il peggio sembra essere passato e comincia già la conta pesantissima dei danni del giovedì di fuoco. Ancora attivi diversi focolai, soprattutto nelle zone di Cefalù, Terrasini, Monreale, San Martino delle Scala e Monte Pellegrino, ma anche sui Nebrodi, nell'Agrigentino e nel Ragusano. In azione da ieri diverse squadre di vigili del fuoco, forestali e canader. 500, secondo i calcoli di vigili del fuoco e protezione civile, i roghi che hanno imperversato tra le province di Palermo, Messina, Trapani e Agrigento. Un centinaio gli sfollati, decine le persone finite in ospedale per malori, due gli ustionati, uno dei quali grave nel messinese. La provincia più colpita comunque è stata quella di Palermo. Una densa nube di fumo si è alzata sopra la borgata dell'Arenella, dove le fiamme hanno divorato i capannoni abbandonati dell'ex fabbrica chimica. Segue la provincia di Caltanissetta, con sette roghi, Messina, con sei incendi e poi ancora Agrigento, con tre, come anche a Ragusa. Due incendi attivi ancora anche a Trapani, dove è emergenza, soprattutto nella zona tra Castellammare e Alcamo. Riaperta per fortuna l'autostrada Palermo-Messina e la strada statale 113, ma i disagi alla circolazione restano. Oggi lo scirocco ha lasciato il posto ad una leggera brezza proveniente da nord-est e la temperatura è notevolmente scesa. Condizioni che per fortuna stanno favorendo gli ultimi interventi nelle varie zone colpite. Nella notte sono stati effettuati 150 interventi in tutta la Sicilia, 650 soltanto nelle ultime 48 ore. Spenti i fuochi, resta da capire chi siano le responsabilità per quanto accaduto. Responsabilità penali, data la probabile matrice dolosa dei roghi, e responsabilità politiche nei confronti di una regione che non ha provveduto a tutelare il territorio. Spenti i fuochi, resta da capire di chi siano le responsabilità per quanto accaduto. responsabilità penali che dovranno riguardare i criminali che hanno acceso i roghi e responsabilità politiche che dovranno riguardare le pubbliche amministrazioni che con molta probabilità non hanno impedito a Piromani e Scirocco di accendere l'inferno. Non può trattarsi infatti solo di un fatto fisiologico favorito dalle alte temperature, nessuno ovviamente ci crede. Un'accusa arriva dal presidente della commissione antimafia Lars Nello Musumeci. Non serve un'arca di scienza, ha detto, per capire che buona parte degli incendi in corso sia di origine dolosa e ad opera di Piromani asserviti ad organizzazioni criminali. Ci troviamo di fronte a grave emissioni degli apparati politici e burocratici regionali che nessuna demagogia potrà minimizzare. Le accuse da più parti sono rivolte ai forestali, ma loro stessi si difendono e prendono le distanze da quanto accaduto. Nei mesi scorsi, denunciano i dipendenti in una nota, non è stata compiuta alcuna attività di prevenzione che riguarda in particolare la creazione dei cosiddetti viali parafuoco, utile a isolare le fiamme e anche l'attività di pulizia del sottobosco. Mancano i soldi, mentre la legge che dovrebbe riformare il settore annunciata a Sala d'Ercole in occasione dell'ultima finanziaria è ancora nella mente del governo Crocetta. Una prevenzione che non ha funzionato dunque anche secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che ricordano di aver presentato una ventina di atti ispettivi per denunciare l'assenza di adeguati piani di gestione e manutenzione. A puntare il dito anche la Flai CGL. Abbiamo sempre ribadito, dice il sindacato, che la carenza dei fondi non può dare adito a manutenzioni frammentate. I sindacati si appellano alla regione e alla burocrazia, che senza pudore non tutela altro che se stessa. Tuona anche legambiente Sicilia. La regione si è distinta per l'ennesima volta per la sua latitanza, dichiara il presidente Gianfranco Zanna. Ma evidentemente, ettari di bosco in fumo, case evacuate, animali carbonizzati non sono un buon motivo affinché si dia una mossa. In tutto questo ci si chiede dove sia il presidente Crocetta. È lontano da Palermo, ma commenta così. Non ho le prove, ma sospetto che dietro i roghi ci siano mani criminali. Chi se la beve che l'incendio sia partito da solo? Ricordo, prosegue, che di recente la regione ha licenziato decine di forestali con condanne per mafia o per aver appiccato incendi. E ancora tecnici all'opera Stromboli per la rimozione dell'aliscafo Masaccio che ieri a causa del forte vento ha sbattuto sulla banchina ed è semi affondato. A causa del forte vento di Scirocco un aliscafo di linea nelle isole Oli è finito ieri durante la fase di ormeggio contro la banchina del porto di Stromboli ed è parzialmente affondato. I 117 passeggeri, sei membri dell'equipaggio, sono stati tratti in salvo. Tecnici sono all'opera per la rimozione del Masaccio, un sopralluogo è stato eseguito dagli esperti della Società di Navigazione Siciliana e dalla Liberty Lines per valutare in che modo si potrà procedere al recupero del mezzo e per verificare anche se vi sia stata una fuoriuscita di gasolio. Probabile che si tenterà di hissarlo con l'ausilio di una grossa gru su un pontone e trasferirlo a Milazzo. Nel contempo il tenente di vascello dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari ha messo un'ordinanza per interdire la parte del porto dove è semi affondato il Masaccio. Gli aliscafi e traghetti possono comunque attraccare nella restante parte della banchina. Sulla vicenda sono state aperte due inchieste dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri. ASP di Palermo in funzione del piano di emergenza caldo attivata l'unità di crisi aziendale. È entrato in funzione il piano emergenza caldo 2016 dell'ASP di Palermo. Gli interventi previsti sono rivolti soprattutto alle categorie maggiormente a rischio in occasioni delle ondate di calore, cioè ai bambini fino a 4 anni di età e agli anziani che più degli altri posseggono un carente sistema di termoregolazione ed una minore capacità di manifestare e provvedere ai propri bisogni. In considerazione delle alte temperature previste, ha spiegato il direttore generale dell'ASP Antonio Candela, abbiamo anticipato di 15 giorni l'entrata in funzione del piano sull'emergenza caldo. L'ASP ha già provveduto a trasmettere su supporto informatico ai medici di medicina generale l'elenco elaborato dall'assessorato regionale della salute e dei soggetti fragili. Predisposto un servizio di allerta per gli anziani già in assistenza domiciliare integrata e per i pazienti fragili, segnalati direttamente dai medici di medicina generale ad una centrale operativa. In pratica i medici di famiglia dopo aver visitato il paziente potranno allertare direttamente la centrale operativa del servizio per richiedere, qualora ve ne fosse bisogno, l'impiego di infermieri professionali per terapie di reidratazione urgente a domicilio. I numeri di telefono dedicati sono ad uso esclusivo dei medici di medicina generale che già sono stati informati del piano di emergenza caldo. Migranti, nuovo sbarco a Porto Empedocle, giunte 111 persone recuperati, anche due cadaveri. Continuano i viaggi della speranza e l'emergenza in migrazione lungo le coste siciliane. Questa mattina a Porto Empedocle sono approdati 111 migranti e due cadaveri, sbarcati dalla nave irlandese Leroisin, che li ha soccorsi nel canale di Sicilia. Tra loro anche 38 donne e 5 bambini. Nella giornata di ieri invece, in uno sbarco lungo e complesso, 140 migranti sono arrivati nel porto di Pozzallo, a bordo della nave Bubon Argos, di medici senza frontiere. Per il medico marittimo di stanza a Pozzallo e per i sanitari dell'ASPE di Ragusa, il lavoro non è mancato, perché tra le 38 donne sbarcate, ben 24 sono state ricoverate in ospedale. Molte in gravidanza, altre con sospetto aborto e due che avrebbero riferito di aver subito violenza sessuale in Libia prima della partenza. Di ieri inoltre, la notizia è che 34 persone, tra cui 20 bambini, sono morte nel tentativo di attraversare il deserto del Sahara alla ricerca di una vita migliore. È quanto riferiscono le autorità del Niger, secondo cui le vittime erano dirette in Europa. I loro corpi sono stati ritrovati alcuni giorni fa vicino al confine con l'Algeria. Il ministro dell'interno, Mohamed Bazoum, ha promesso di perseguire con rigide misure i trafficanti che esigono somme elevate per il trasporto di migranti dall'Africa subsahariana all'Algeria e oltre. Il Niger è uno dei paesi più poveri del mondo e in molti fuggono nel tentativo di raggiungere il Nord Africa e l'Europa in cerca di lavoro. Le traversate nel deserto hanno, in termini di vite umani, costi altissimi. Non è infrequente che i trafficanti abbandonino i camion carichi di migranti o non riescono a portare acqua a sufficienza per tutti. Cambiamo argomento. Consiglio generale della Cisa di Messina all'ordine del giorno. La situazione politico-sindacale a livello nazionale, regionale e locale, il dato emerso è la crisi occupazione senza precedenti in Sicilia. Siamo nel gorgo di una crisi irreversibile dove il lavoro, che è la principale fonte non solo di sostentamento ma anche di legalità, viene messa sempre in secondo piano. C'è bisogno di lavoro produttivo, c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno di costruire una rete tutti insieme per valorizzare le eccellenze che noi abbiamo sul nostro territorio, per rendere questo territorio attrattivo. Gli ultimi dati, quelli pubblicati ieri dall'Inps, continuano a dimostrarlo. In Sicilia, rispetto allo scorso anno, è crollata ancora una volta l'occupazione a Messina ancora di più. Siamo nell'ordine del 32% delle assunzioni a tempo indeterminato. In Sicilia la catastrofe di oggi, di questi giorni, certifica la mancata programmazione in tutti i settori della pubblica amministrazione, a partire dall'utilizzo del sistema dei lavoratori forestali. Da tempo noi rivendichiamo una riforma che sia idonea alle esigenze di una regione molto ampia, con una grande attività boschiva che ricomprende gran parte del territorio. Ma non solo quella è indispensabile. Abbiamo potuto constatare che in questi anni manca una vera programmazione in tutti i settori della pubblica amministrazione. Ed ecco perché in questi giorni unitariamente a CGL, a seguito della grande manifestazione del 7 maggio, abbiamo iniziato gli incontri con i singoli rami delle amministrazioni. Quello che sta succedendo in Sicilia dimostra che complessivamente il Sud Italia sta pagando la crisi, non solo dal punto di vista della disoccupazione, della mancanza della crescita, della mancanza di lavoro. C'è un forte arricchimento sia dei servizi, sia del sistema infrastrutturale, sia quello fisico, quello immateriale e soprattutto sul piano di servizio alle comunità. C'è molta approssimazione, improvvisazione, c'è un'incapacità strutturale di programmazione, ci sono meno risorse. Tutto questo avvenendo dagli incendi, atto prevedibilissimi, visto il caldo, dimostra che la Sicilia come le regioni importanti del Sud da solo non ce la fanno. Quindi è bene che il Governo nazionale faccia veramente un piano straordinario insieme alle regioni, alle comunità locali, per mettere in fila le priorità, per dare sia servizi efficienti, con minor sprechi, minore rifiutazione mafiosa e fare in modo che la politica e l'istituzione diventano veramente a servizio di quello che serve alla collettività. Per la messa in sicurezza della strada provinciale 42 si è dovuto attivare persino l'arcivescovo di Monreale, Monsignor Pennisi. Ascoltiamo perché. Una volta che c'erano tante persone che si lamentavano perché queste strade erano inagibili e soprattutto per la Sencipirello Corleone queste strade servono anche a far passare le ambulanze e io l'ho potuto constatare di presenza e poi sono strade che io faccio, non dico ogni giorno ma spesso, allora visto che nessuno interveniva mi sono fatto promotore di una raccolta di firme, in pochi giorni abbiamo raccolto circa 3.000 firme, potevamo raccoglierne anche molto di più, che io ho consegnato, ho tentato di consegnare alla provincia, poi l'ho consegnato all'assessore regionale e alle infrastrutture perché la provincia non avendo fondi non sapeva cosa fare. Sono importanti perché intervenire in questi comuni significa dare un segno della presenza dello Stato perché il fatto che alcuni tratti di questa strada sono stati in qualche modo aggiustati provvisoriamente da privati cittadini che hanno raccolto fra di loro delle offerte per restaurare questa strada è un brutto segno perché significa che lo Stato è assente, i cittadini o organizzazioni, spero non organizzazioni malavitose, si sostituiscono allo Stato. Allora mi pare importante che tutti gli enti preposti, i comuni, la provincia, la città metropolitana, la regione, lo Stato si facciano carico della viabilità in provincia di Palermo, soprattutto per quello riguardo la mia di oggi, perché non ci sono soltanto le strade provinciali, purtroppo ci sono anche strade statali, basta vedere per esempio la strada da Corleone per arrivare a Bisacquino o la strada per arrivare a Giuliana, per arrivare a Chiusa Sclafani, sono delle strade anche statali in pessime condizioni. Dopo il caldo, record di ieri, temperature in discesa nel fine settimana. I picchi di caldo intenso raggiunti ieri in Sicilia, con punte massime intorno a 40-42 gradi, non si ripeteranno nel weekend, quando sul Tirreno i venti di Scirocco saranno sostituiti da venti provenienti da nord. È quanto affermano i meteorologi del centro Epson Meteo. Dopo il caldo infernale che si è abbattuto in Sicilia, dunque, le temperature stanno cominciando a scendere. Secondo le previsioni di Trebi Meteo, la temperatura di oggi dovrebbe attestarsi tra i 23 e i 25 gradi centigradi. Un calo termico notevole se si considera che ieri in città si sono sfiorati i 46 gradi. L'alta pressione africana, spiegano da Trebi Meteo, viene sostituita dall'anticiclone delle Azzorre, che continua a portare bel tempo, ma a temperature più normali, sebbene con aria leggermente più umida. Già da ieri sera le temperature hanno iniziato gradualmente a diminuire per riportarsi entro le medie e i giorni successivi saranno caratterizzati da clima caldo ma normale. Poco da segnalare sotto il profilo del tempo, con qualche velatura o stratificazione anche compatta in transito e poi un probabile peggioramento il giorno 19 per il passaggio di una debole perturbazione. Sabato dunque bel tempo in tutta la Sicilia, ma per domenica si profila già un peggioramento, con aumento della nuvolosità in gran parte d'Italia. Avremo rovesce e temporali sparsi alternati comunque a qualche schiarita. Le precipitazioni, spiegano dal centro Epson Meteo, dovrebbero risparmiare le zone ioniche e raggiungere solo in serata il medio-alto adriatico. Temperature in ulteriore calo al centro-sud e isole, venti in intensificazione. Lunedì torna il sole al sud in Sicilia, tempo instabile invece al centro-nord con il rischio di precipitazioni. Documentari provenienti da tutto il mondo per l'undicesima edizione del Sole Luna Doc Film Festival che si terrà a Palermo ai cantieri culturali della Zisa dal 20 al 26 giugno prossimi. Credo che sia una manifestazione che ha un significato culturale, sociale e straordinario. Ha un significato di, come dice il titolo stesso, di ponte tra le culture. Il concetto di ponte, il concetto di coesistenza e soprattutto di collaborazione tra le diverse culture credo che sia un messaggio fondamentale anche da un punto di vista proprio del futuro di questa terra. Questa è una terra che fa dell'accoglienza una delle sue caratterizzazioni fondamentali e da questo punto di vista rafforzarla con la cultura che è l'arma più importante contro ogni forma di intolleranza, di violenza, di prevaricazione, credo che sia assolutamente fondamentale. La pensamento e la gratitudine per questo straordinario festival del film documentario che ha intuito la dimensione internazionale di Palermo quando Palermo non aveva ancora una dimensione internazionale. Oggi Palermo ha una dimensione internazionale e credo che sia confermata e rafforzata la straordinaria qualità di questo doc film. Da questo punto di vista è evidente che manifestare, far conoscere il sincretismo di questa città lo si può fare anche con uno splendido film che viene dal Tibet piuttosto che dalla Colombia. Credo che sia questo il senso complessivo di questo festival alla quale l'amministrazione comunale partecipa così come partecipa l'Università degli Studi di Palermo a conferma se ve ne fosse bisogno che Palermo è una città universitaria che non è merito all'università né merito alla città ma è merito del fatto che abbiamo capito che insieme si può. Abbiamo ormai un network che raggiunge anche i paesi più lontani e ogni anno abbiamo delle sorprese incredibili anche di registi stranieri che si interessano alla nostra terra così come di registi italiani che si interessano ai problemi degli altri e agli altri mondi. Quindi direi che riusciamo attraverso la selezione a portare in città, a Palermo, il meglio della documentaristica internazionale ovviamente riguardanti i nostri temi che sono quelli del dialogo, dell'incontro tra le culture, dello studio delle problematiche, delle diversità e diciamo che è la cosa importante da sottolineare quest'anno che ormai Palermo fa modello. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie.